L'ASL Salerno, nell'ambito del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, ha adottato una serie di misure finalizzate a ridurre i tempi di attesa, riorganizzare le liste e riarticolare le agende. Per il raggiungimento di tali obiettivi di fondamentale importanza è l'aspetto legato al recupero delle prestazioni prenotate e non più erogate, attraverso un'analisi puntuale e costante delle prestazioni da recuperare e l'aggiunta di sedute ulteriori, sia ambulatoriali che di ricovero. In tale contesto i cittadini utenti, che per vari motivi non possono e non intendono più usufruire della prestazione prenotata, sono chiamati a fare la loro parte, contattando il centro unico di prenotazione dell'ASL Salerno o utilizzando gli altri canali previsti, comunicando la loro rinuncia alla prestazione e faranno in modo che essa non vada persa, ma che possa essere riprogrammata e messa a disposizione degli utenti che sono in lista di attesa e che saranno richiamati per anticipare la prenotazione.